Buonasera a tutti da Marco Vigo e dagli studi della RCM Records e benvenuti alla seconda puntata di L'amore sopra ogni cosa, la rubrica in cui mano a mano analizzeremo i testi delle canzoni di Fabrizio De Andrè. Oggi parliamo di una canzone molto bella e molto particolare che si intitola Le passanti, ma prima sigla! Le passanti è da prima una poesia, scritta nel 1918 da Antoine Paul, un poeta francese, che divenne famosa solo grazie a quello che De Andrè considerava uno dei suoi maestri, ossia Georges Brassens, che nel 1972 decise di inciderla. È una canzone che ha una storia particolare, Antoine Paul era un poeta per diletto fino a un certo punto della sua vita, potremmo dire, perché si occupava di tutt'altro, lavorava in una miniera di carbone e nel 1945 divenne addirittura presidente del sindacato degli importatori di carbone. Questo anche a testimoniare che il successo con la poesia stentava ad arrivare. Fino a che però Brassens, nel 1943, mentre passeggiava per le vie di Parigi, vide in una bancarella un libro che era una raccolta di poesie dello stesso Paul e si innamorò in particolare appunto della poesia Le passanti. Decise quindi di contattare il poeta francese per fissare un incontro, poter avere i diritti e poterci scrivere una canzone. L'incontro venne fissato, ma una settimana prima che questo avvenisse, Paul morì improvvisamente e quindi fu la vedova a cedere i diritti affinché la canzone potesse essere realizzata. La canzone, per motivi che noi non conosciamo, venne realizzata tra il 1943 e il 1944, però venne incisa soltanto 29 anni dopo, nel 1972. De Andrè l'ha ripresa due anni dopo, nel 1974. Le passanti è una canzone che troviamo nell'album Canzoni, appunto, e parla di amore, ma non amore come sentimento generico, ma un amore che fondamentalmente vede al centro la figura della donna immaginata appunto come se fosse un amore. Cosa si intende? Si intende che nei versi, che non hanno innanzitutto una conseguenzialità, non si narra una storia, sono sette versi con una storia, ognuno con una storia a sé. Nei versi ci sono dei brevi ritratti di donne incrociate per caso alla donna incrociata sul treno, con la quale basta specchiarsi negli occhi, affinché addirittura il tragitto sembri più breve. Oppure abbiamo la donna che passeggia sul balcone, alla quale De Andrè immagina di regalare un sorriso. Qui c'è una differenza con la poesia. Nella poesia il poeta si accontenta semplicemente della visione snella e leggiata di questa donna, De Andrè invece immagina che le stia regalando un sorriso. Oppure abbiamo la figura della donna, come dice il testo, già presa, ossia quelle già impegnate, già sposate. E si immagina che questa donna lasci trapelare in realtà dal suo viso un senso di infelicità, perché si immagina magari che l'uomo che ha sposato tanti anni fa e che aveva soprattutto conosciuto tanti anni fa a distanza di tempo non sia più lo stesso. Quindi fondamentalmente la canzone tratta di ciò che poteva essere e non è stato. Suggerendo però all'ascoltatore di non vedere queste situazioni che non sono andate a compimento come quindi avvenimenti negativi solo per questo motivo, ma anzi nei momenti di solitudine, la solitudine è un tema che nella poetica di De Andrè è molto presente, esiste un disco dove si parla molto di questa, ossia Anime Salve, nei momenti di solitudine noi dovremmo andare a scavare nella nostra memoria e ricordarci tutti questi momenti che comunque fanno parte del nostro bagaglio, laddove per bagaglio si intende semplicemente la vita. E bene, questa puntata di L'amore sopra ogni cosa finisce qui, io vi volevo augurare buone feste, visto che siamo in periodo natalizio, ci vedremo lunedì prossimo e volevo ringraziare Maurizio Casu al di là del vetro che ha curato anche quest'oggi la regia. Grazie mille e buonanotte.